TELIVOLO FIA IN CERCA DI BERSAGLI APPROVVIGIONAMENTO IN DISCESA PROTEGGERE LA ZON ENEMICO FIORO A PERSA TELIVOLO FIA IN CERCA DI BERSAGLI ENEMICO FRANZI CACCIA IN APPICINAMENTO A BERSAGLI PARIAMO COLPI DI MOTAIO DI SUPPORTO APPROVIGIONAMENTO IN DISCESA CONTROGLI AEREO IN ZONA BERSAGLI CONFERMATO ENEMICO FRANZI ENEMICO CATTURA ALTON ENEMICO CATTURA BARTAN ALTON OCCUPATO SERVANO AEREO FIA PARTITO E IN CERCA DI BERSAGLI APPROVIGIONAMENTO IN DISCESA PROTEGGERE LA ZON ENEMICO CATTURA BARTAN ENEMICO MANCA POCO PER ANTON PERTIAMO L'OBIETTIVO OVERTAN BOMBARDAMENTO FRITZ X IN CORSO Non subiamo Anzol! Perdiamo l'obiettivo, Berta! Contatto nemico a Keiser! Elibolo spia in volo! Il nemico subisce gravi vertiche! Avanzi! Contro-spionaggio pronto! Neutralizziamo gli aerei spia nemici! Il nemico cattura Keiser! Bombardamento Fritz X in corso! Elimono spia in volo!